E salve a tutti amici di Skip from Tarkov Italia E benvenuti finalmente nel video che avevo magari promesso in qualche commento eccetera in qualche video Delle novità Ci sono novità sulla closet beta, qualcosa della open beta E ovviamente novità che ci saranno nella beta insomma in generale Allora, io ho cercato, ho preso un po' le cose, un po' più succose diciamo perché erano veramente veramente tante Allora, iniziamo con l'ottimizzazione Allora, l'ottimizzazione sarà fatta nel sistema delle animazioni, l'equipaggiamento e i moduli interni del sistema Perché hanno detto che non è la grafica il problema E poi cambieranno le engine Stanno pensando, perché adesso è su Unity, non si sa che cosa metteranno Però vogliono cambiarlo per poi facilitare gli aggiornamenti futuri Insomma, non sarà più su Unity Poi ci saranno le missioni Cioè, si potrà, inizierà lo scambio E alcune missioni saranno anche dedicate apposta per fare XP Però ci saranno le missioni per poter guadagnare soldi, munizioni, armi e così via Poi c'è l'assicurazione che è una cosa che mi interessa molto Che cosa è l'assicurazione? Allora, sarà possibile per pochi soldi fare un'assicurazione alle armi e all'equipaggiamento Ciò significa che quando noi facciamo questa assicurazione Magari abbiamo, cosa che capita anche a me Abbiamo paura Quando andiamo a fare un ride, un qualcosa Di perdere i nostri oggetti, anche quelli presi Noi per pochi soldi possiamo avere una Però attenzione Una percentuale di non perdita O di perdita, insomma Quindi per pochi soldi Possiamo non perdere gli oggetti Però non è sicuro al 100% Però è una cosa molto interessante Poi ci sarà il loot e l'economia Allora, loro hanno deciso che il baratto dovrà essere la moneta, tra virgolette, di scambio principale I soldi invece saranno, come adesso il baratto, una cosa secondaria E poi ci saranno nuove, diverse zone di loot per medicine, armi, eccetera Poi ci sarà il repair kit per le armi Il kit di riparazione per le armi Il kit di affilamento per affilare i nostri oggetti Quelli che si possono affilare Nuovi chest rig E nuovi contenitori per la mappa Perché adesso non c'è la mappa Ci sarà un contenitore della mappa Che occuperà un 2x1 E che dentro contiene le celle 4x4 Che dove ci sarà la mappa Più ci saranno gli oggetti presi dalle quest E chiavi nuove E poi ci sarà un'arma nuova L'MP5 Che introdurrà anche nuove customizzazioni E dei nuovi tipi di caricatore E poi Passiamo alla nuova località Che ho già visto da diverso tempo Che si chiama Shoreline Allora Shoreline è una mappa Con diverse casi e posti da visitare Tra cui una centrale idroelettrica La stazione meteorologica Un centro benessere Villaggi E altre zone sparse per la mappa Ed è programmato che dovrà essere Due volte Woods Già Woods è grande Quindi figuriamoci quanto sarà grande Shoreline Però Non sarà subito così grande Anzi Potrà Subito appena uscita Sarà più piccola di Woods Per poi essere Per poi aumentarla Poi implementeranno La general chat Quindi ci sarà la possibilità Di comunicare Però non so se Vocalmente Sicuramente Di Sicuramente Di scritto Insomma Con le persone in gioco E poi C'è un fatto Molto interessante Anche questo Che è il fatto Della fascia colorata Cosa sarebbe Ogni persona In team Avrà una fascia Colorata Ovviamente Il capogruppo Sceglierà Di che colore Sarà questa fascia In modo Che sia un po' più semplice Da riconoscere Il compagno Invece di dire Salta salta Che sei se te Eccetera Però attenzione Perché non è che Te scegli il rosso Un altro c'è il rosso E ti dice No il rosso Ho già stato scelto No Magari tutti Scelgono il rosso E quindi tutti sono rossi E quindi un casino E poi dicono Che vorranno Fixare moltissimi Bug Che quello Ovviamente È il piano Ma è il piano Di qualsiasi gioco E renderlo Proprio Senza bug Ma diciamo Anche quella È una cosa Un po' Difficile Insomma Tutti i giochi Hanno bug I giochi Si creano Con i bug Poi una cosa Molto 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 Bella È la nuova Non so se Modalità Chiamiamola così La modalità Hideout Che sarebbe Nascondiglio Però sarà disponibile Solo Nella open beta E poi Che sarà per testarlo Ovviamente E Questa notizia L'ho messa anche Sulla pagina facebook Che vi invito Ad andare a mettere Mi piace Perché ci saranno Molte novità Ma lì Metto le novità I video Che sono usciti Se non vi arrivano Le notifiche E così via Comunque Riprendendo Dalla nuova modalità Hideout Cosa è Allora Noi si parte Un nascondiglio Che dovrà essere Costruito da zero Andranno migliorati Vari aspetti Tra cui Il generatore della corrente Il sistema della raccolta Dell'acqua La struttura Dei trattamenti medici E tante altre cose Una cosa tipo Un fallout shelter Perché Se non mi sbaglio È proprio Un vecchio bunker Trovato Che ovviamente Da vecchio Bisogna farlo Diventare nuovo E ora vi leggo Proprio Una cosa Che Quello La stessa cosa Che ho condiviso Nella mia pagina facebook E ve la vado a leggere Pari pari Così Diciamo Si capisce Insomma Ve lo spiego meglio Perché È me Allora La preparazione Alla La Closed Beta Di Escape From Tarkov È in pieno Svolgimento Tutta via Il nostro lavoro Attuale Non è limitato Solo ai compiti Relativi Alla stessa E adesso Siamo lieti In annunciare Una delle caratteristiche Del gioco Già citata Nelle prime fasi Di sviluppo Di Escape From Tarkov The Hideout Il processo Di fuga Da Tarkov Non è veloce Quanto possa apparire All'esterno I nostri personaggi Hanno bisogno Di un posto Per stabilirsi Per guadagnare Forza Conservare Le scorte Immagazzinare Il gibernaggio E le armi scoperte In altre parole Recuperare Prima di prepararsi Per raggiungere L'obiettivo principale Del gioco E questa è una cosa Molto interessante Il gioco Il giocatore Inizia la costruzione E la personalizzazione Dell'Hideout Dai Rottami Inizialmente sarà Come un rifugio Abbandonato E disastrato Dai bombardamenti Senza alcun mezzo Di sostenimento Alla vita Di sostan... Di sostentamento Alla vita Ce l'ho fatto Costantemente edificato E migliorato Migliorando i moduli Dell'Hideout Come il generatore Di potenza Il sistema di raccolta Dell'acqua La ventilazione L'impiato di trattamento Medico Il centro di ricognizione Il riscaldamento Il bagno E molti altri I giocatori Migliorano Vari parametri Dei loro personaggi Come la salute Fuori ride Idratazione E velocità Di rigenerazione Dell'energia Il giocatore Ottiene anche opportunità Speciali Per la produzione Di medicinali Munizioni E altri oggetti Provenienti da varie risorse I miglioramenti Del centro di ricognizione Forniscono nuova opportunità Di lavorare con i commercianti Di giocare come scav E molto di più Quindi magari Tipo un menu Un menu Che protti giochi Forse Ogni modulo Ogni modulo Ce ne sono più di 13 Nella produzione A bonus esclusivi Richiede uno schema unico Per la costruzione Il giocatore Avrà bisogno Di risorse diverse Accesso a una varietà Di commercianti E livelli di abilità Necessari Per sbloccare Le funzionalità Di installazione Del modulo E le possibilità Per il loro miglioramento Per mantenere La condizione operativa Head out Il giocatore Per prima cosa Dovrà installare Il generatore L'ho perso Perché Il generatore Che consuma carburante Con una mancanza Di combustibile La produzione E la rigenerazione Delle caratteristiche Saranno rallentate O interrotte Va inoltre Notato che La dimensione Dello stash Dipenderà Direttamente Dal livello Del nascondiglio Head out I giocatori Con una limited edition Quindi io Del gioco Ricineveranno La dimensione Massima Di terzo livello Quindi Se pensate Che quelli Con la limited edition Saranno Avvantaggiati In questo caso Sì Oltre ai moduli Di base Dell'head out Il giocatore Sarà in grado Di installare Moduli elite Che miglioreranno Discrittamente Drasticamente I livelli Di vita E sicurezza Accelererà Il livellamento Delle abilità Consentendo Di produrre Elementi Risorse unici E più semplicemente Aggiungeranno Calore In comfort Alla tua Casa Ciò che vale la pena A notare Separatamente È un poligono Di tiro In cui è possibile Testare le armi Il nascondiglio Sarà parte integrale Del gioco E giustificherà Tutti i processi Fuori ride Inerenti al proprio Charakter Il riprisione Della salute La dimensione Dello stash L'accesso A nuovi servizi Commercianti Ricerca di oggetti E eventi Nel mondo Di escape from Tarkov Questa innovazione Sarà sviluppata In parallelo Indipendentemente Dallo sviluppo Del gioco principale Abbiamo Ecco qua Abbiamo intenzione Di lanciare La handout Nella fase Di open beta Quindi Quindi Credo che Queste siano Tutte le novità Forse ce n'è Un'altra Di Chiamiamolo Un'altra Game mod Forse Che me l'ero Scritta Come tutto quanto Sì Che È L'arena Ora non ho capito Bene Era tutto In inglese Un po' tradotto In italiano Eccetera Però Inizialmente Ci saranno Tre modalità Normale Free rom E arena In arena Puoi scegliere Il tuo equip Quindi In arena Puoi scegliere Il tuo equip E non è un posto Ma è semplicemente Un evento Basato sul team E ci potrebbe essere In modo che Nasca un battle royale Ma solo con il dlc Quindi arena Forse Non so Cosa intendono Loro per arena Magari Tipo un'arena Tipo no Quelle Romane Quelle vecchie Tipo un'arena Che si combattono Lì Però come arena Si combattono lì Infatti si può Pensare A proprio Un battle royale Quindi Potrebbe Uscire anche Un battle royale Su escape from tarkov Cosa secondo me Che ci sta Su escape from tarkov Perché Se siete persone A cui piace Sparare In quel gioco È perfetto Perché Che quel gioco Se giri E non vedi un cazzo Alla fine Che gusto Che gusto c'è Infatti È bella È bello Se ci fosse un battle royale Così dici Boggi Voglio fare battle royale Vai lì Spari E non perdi niente E ti diverti Insomma Spari Uccidi Cose varie La cosa Dell'hide out Mi intriga molto E E niente Ora passiamo Diciamo Forse al fulcro Di questa Di questo video Una cosa Che sicuramente Voi sarete entrati E avete detto Eh però Termi show Il titolo In quel modo Ma Non l'ho mai detto E invece Sì L'ho detto alla fine Quindi Se ve lo siete visto tutto Sapete Quando uscirà La closed beta Allora Non c'è Una data Specifica Per la closed beta Ma Hanno Hanno detto Io ho visto Vari video Nel forum In cui dicevano Che la closed beta Uscirà Per Fine Giugno Quindi fine Di questo mese Spero sia vero Prima le novità Erano che usciva In estate E adesso La novità E' che uscirà In Ora Insomma A fine mese Tra Presente Tra due settimane Nemmeno Perché Io questo video Lo sto registrando Prima Lo sto registrando Mercoledì Che il giorno dopo Vi è uscito Il video Quello di Survive the night Che quindi Non so come è andato E Quindi Per ora Saranno due settimane Però Alla fine Lunedì Viste vi esce Lunedì L'ho fatto così Presto Alla fine Saranno Quasi Dieci giorni Quindi potrebbero Mancare Dieci giorni Alla closed beta Speriamo Per poi Per altre notizie Vi caricherò Subito un video O lo metterò Sulla pagina facebook E quindi Per questo Dovete andare Sulla pagina facebook Perché se ci fossero Novità Per qualsiasi cosa Che magari Non ci vuole tanto Per dirla Ve la metto Direttamente lì Quindi niente Io vi ho messo Le novità Quelle Secondo me Un po' più Succulente Me ne ero scritte Tantissime Ma tantissime Altre E Però Cioè Non avrei mai Finito Di Di dirvele Perché C'ho due pagine Scritte Ed era tipo Metà Però poi Sono andato sul forum Ho preso quella roba L'ho tradotta Prendendo i punti Per dirvelo Un po' velocemente La cosa Del light out E niente Vi ho preso le cose Un po' più succulente Quindi Spero che siete arrivati Fino alla fine Io Vi rinvito Ad andare sulla pagina Facebook Non è per dire Voglio Mi piace Più che altro È per voi Perché se ci sono novità Andate lì Ci sono le novità Novità sul canale Sui script from Tarkov Su tutto Quindi Niente Io vi saluto Vi ringrazio per la visione E ci vediamo nel prossimo video Che dovrebbe essere O giovedì O venerdì Quindi Noi ci vediamo Alla prossima Ciao